La DIA di Palermo ha sequestrato beni per oltre 400.000 euro a Guido Spina, 51enne palermitano, ritenuto il capo emergente della cosca mafiosa del quartiere Zenne. Il provvedimento nasce dalla proposta della procura di Palermo. Spina fu arrestato dalla DIA nel 2014 per associazione mafiosa, estorsione, trasporto, detenzione, spaccio di droga. Gli vennero anche sequestrati auto, rapporti bancari e finanziari, abitazioni, tra le quali una villa bunker con piscina. Lo scorso gennaio il Tribunale di Palermo l'ha condannato a 20 anni di carcere. Dalle indagini della DIA, coordinate dal procuratore aggiunto Dino Petralia, è emerso che il boss era proprietario nel quartiere Zenne di altre due ville di appezzamenti di terreno, confinanti con la sua residenza, in cui erano state realizzate opere abusive e di un appartamento. Insomma, diverse proprietà che servivano anche ad affermare il proprio potere, la propria capacità di controllo del territorio. L'obiettivo di Spina era quello di affermarsi definitivamente come capo della famiglia mafiosa.